I libri li scrive qualcuno che non è lui, li stampa normalmente un altro che non è lui, li vende un terzo che non è lui, di suo, di se stesso, l'editore ci mette l'amore. L'amore Ma so che la mia ferocia era la mia purezza, perché ho avuto pietà di me stesso, questa umiltà non salva un uomo. C'è l'editore Libraio che un giorno si è lasciato tentare pubblicando le poesie del direttore della scuola oppure una guida della città. La Merini io l'ho ereditata da mio padre, l'ultimo libro pubblicato da mio padre che aveva iniziato nel lontano 1925 è stato proprio quel Poetesse del Novecento che terminava con Alda Merini. Oltre alla nuvola bianca delle palene imbazzite, turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette, Peglia terra una colpre su cui scricchia come su zucchero il piede. L'estate inerite sfrigiona ora il gelo. With usura, with usura has no man a house of good stone. Each must cut smooth and well fitting, but design might cover their face. I granellini della sabbia sono gin, ballerini, e anche oggi il tuorei portano il viso avvolto in un vero vitae, perché quegli spiritelli, delle anime, maligne, perché dalla bocca e dalle nari non entrano in oro il demonio in corso. C'è l'editore di pronto intervento, come i Vigili del Fuoco. Non è ancora spento nella cronaca l'incendio, che esce il libro documentario. C'è l'editore protagonista, che riesce a trasferire nella scelta la propria natura. Curiosità, esigenze, insoddisfazioni e orgoglio, dubbi e speranze che sono nell'aria, condivise dai lettori potenziali. Tra le opere d'arte applicata, l'opera grafica è quella che più di ogni altra comunica a chi guardi un senso immediato di ricchezza spirituale. È mai possibile che da pochi segni su di uno spazio bianco si muova e ci tocchi un flusso capace di modificare uno stato d'animo e di aprirci, fosse pure per breve istante, a un inatteso benessere. Vittorini, come collochi Charlie Brown nella letteratura americana, o non lo collochi? Potete avvicinare Salinger, però con un interesse molto più ampio e molto più profondo. Quindi è più artista Schultz. Salinger resta, magari vuoi mettere, resta poeta, non so, vuoi metterlo come poeta, vuoi metterlo come cosa, e non è il poeta di una società. Musica 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 Musica